Mettete un'attrice bravissima del calibro di Sandra Zoccolano in un luogo incantevole come la chiesa della conversione di San Paolo d'Argon e fatele raccontare furore di John Steinbeck, praticamente il libro che fondò l'epopea americana. Di tutto questo vi parleremo questa settimana aspettando fiato i libri. Lo spettacolo della settimana è tratto dal libro furore di John Steinbeck. John Steinbeck influenzò molta della produzione musicale del Novecento. Ricordiamo ad esempio che Woody Guthrie con l'album Dust Bowl Ballad che contiene il brano Tom John è chiaramente ispirato dal protagonista di Furore. E poi non si può non citare Bruce Priest in il suo The Ghost of Tom John, un album di una intensità incredibile. del quale ricordiamo anche una straordinaria cover fatta dai regi che è di Maschine. sul palco per raccontarci le vicende di Tom John e della sua famiglia ci sarà Sandra Zoccolan. L'appuntamento con lo spettacolo Furore con Sandra Zoccolan è per domenica alle 21. non mancate. Grazie a tutti